Il 9 ottobre del 63, a quest'ora Longarone è piena di gente, nei bar, a guardare una partita di calcio, Ranger Glasgow contro Real Madrid, c'era l'Eurovisione che era una finta diretta, cominciava alle 10 di sera, dopo la partita iniziava l'Eurovisione e il secondo canale a Longarone era arrivato da pochi mesi, e così quanti ragazzi scende dalle frazioni per andare a vedere la partita a Longarone, davanti ai bar file di biciclette e motorini e dentro al bar nuvole di nebbia, poi un trespolo e a 3 metri la televisione, bianco e nero che filtra tra bestemmie fino al tavolo da gioco, gente che gioca e guarda la partita, ma non è la sola occasione per andare a Longarone, c'era il cinema a Longarone, le gelaterie, fa città a Longarone, non è mica paese, vuoi trovare una ragazza in giro di sera, mica stai qua, vai giù a Longarone, in strada, piccola Milano la chiamavano Longarone, quassù in valle, dove siamo noi oltre la diga, un silenzio feroce, l'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta e la frana è ancora là, su un piano inclinato, non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì ferma! E poi va, cos'è che la fa andare? Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di rocce, non è mica questa roba qui, quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vaionte, ma che ti illudi? La frana del Vaionte è partita lassù, 5-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede, lassù in alto, abbarbicati stavano i boschi, un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi, un mondo intero fatto a M con gli animali nelle stalle che mugisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi, un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso! so! E non lo fa in silenzio, testimoni oculari il parroco di Casso, apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria che spacca, un corto circuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso, ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il collo isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri, le montagne del Toc dopo il Vaillant si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite, questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso e l'acqua era piena d'acqua, il mondo dove siamo appoggiati noi adesso era l'acqua, dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi Cristo, l'acqua e l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri, la vedi la parete, punta l'onda più alta della parete, punta la vedi la luce in cima alla roccia, quello è casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare, a varicare la roccia ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale che vanno a sfondare il tetto delle case, l'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo, si svegliano malconci, mal ridotti, al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo, che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola, sotto qui non c'è più altro che quel rumore, tu prova a parlare con un superstite del rumore, io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini, non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vaillon, c'è un paese, certo è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese, un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano di un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martino, alle spesse, a patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo, la mattina dopo è un'alba livida, cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere, l'alba livida è in bianco e nero, marron, un giusto, ecco che cos'è l'alba livida, un altro luogo comune, vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo, sono bigottiti, sbalortiti, sono come bambini da prendere per mano e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri, gli elicotteri americani per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati che in tre giorni caricano tutti, via di qua, ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai, via, evacuazione, tre giorni per caricare le coperte, per caricare le cose e via, per tre anni, con sussidio di 2000 lire per ubriacarsi e chi lavora perde il sussidio, tre anni in giro a votare il referendum, dove vuoi andare a vivere farsa? Erto viene ricostruito in tre parti, a Maniago nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi nella Valle del Piave e qui, solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti, forse, avrebbe dovuto restare vuota, senza vita. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vaillant, nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150, ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le aeree geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola, questo è l'anno zero, in questo posto, l'acqua si infogna e forma un lago in corsa, alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponte della gola, dietro al muro, ma davanti all'ongarone, al centro del mirino, all'ongarone hanno sentito il colpo, temporale, è andata via la luce, è la partita, che rabbia, che rabbia, non vedo la partita, vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema, trema la vallata, mezzo paese alla luce, ma noi no, e intanto sopra la gola del Vaillant si vedono questi lampi, è un temporale, no, è un cortocircuito, è un temporale, tremano le pareti della gola, è temporale, senti che tuoni, e intanto arriva il vento, è un temporale, è un temporale d'ottobre che cambia il tempo, succede che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua strano, un vento poi che non è come il vento di solito, che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia questo vento, come inizia non smette più, spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta, è Cristo, non è vento questo, e neanche porta un odore, ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è, una cantina maledetta, è un pistone marcio che spinge avanti l'acqua, questo è qualcosa che fa, la diga, quattro minuti, da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua all'ongarone, un minuto e venti per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua, la diga, via, quattro minuti per decidere come vivi o come muori, quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli, non ce la farai mai a svegliarli, scappa, quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta, aspettami, Mignaco, aspettami, ognuno per conto suo, no, no, insieme, e i figli, i figli, due a testa, due a testa mia, e quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori, e intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva questo rumore come un treno in crescita, un treno che arriva, Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie, dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie, scappa, non ti aspetto, scappa, vai tu, non ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane, Cristo! Questo, prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria, come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria, compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vaillant, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di due bombe atomiche di Hiroshima, via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro, carta, polvere, quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vaillant è anche questo, mille barre con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote, non ce n'era per tutti da seppellire, litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara, quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua, questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vaillant è alto 70 metri e corre a 70 chilometri all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un niagara, così, nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova Longarone, pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna, verso le gambe di quelli che stanno correndo, disperati verso la salita che sono gli unici che riescono a salvarsi e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle, Cristo muoio, no, mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro, sono bagnato, non capisco se è bagnato di fuori o di dentro, ma vivo Cristo, vivo e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce e vedo che rientra nel fondo della valle dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese e in questo modo risale per due chilometri il piave controcorrente l'onda del Vaillant, mezza onda del Vaillant a parar giù paesi nel letto del fiume, l'altra mezza onda si è già presa alla direzione del mare e a ponte nelle Alpi a Belluno e chilometri dopo il Vaillant il muro d'acqua che corre lungo il piave è alto ancora 12 metri, io da bambino mi ricordo che mi portavano sul letto del piave a vedere le cose del Vaillant appese sugli alberi, io capivo che erano le cose del Vaillant ma non ho mai capito io chi le aveva appese lassù, cosa potevo immaginarmi che l'acqua fosse arrivata fin lì io e il giorno dopo aspetta, l'onda di riflusso che era andata in su 15 minuti dopo la prima ondata torna indietro, spiana, è un'onda di riflusso sì, spiana fa tutto liscio, quel che la prima ha mosso la seconda sistema, come sulla spiaggia no? L'onda di riflusso del mare è a Longarone fa tutto piano, liscio e lì la mattina dopo si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire, 5 paesi, migliaia di persone ieri c'erano, oggi sono terra, nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere, no, io ho scritto la Sades padroneggia ma i montanari si difendono, per piacere, signora Merlin ci sono i morti, niente speculazioni politiche, un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua, no, io ho scritto una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vita e avere, per piacere, signora Merlin ci sono i morti, sciacalli, sciacalli, sciacalli scriveva Montanelli sul Corriere della Sera, sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro che osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vaillant, ma ti pare che questa si può tenere nascosta? Beh dimmelo tu, la diga del Vaillant è il murro di Belluno, funziona benissimo. E adesso fatti un nodo al fazzoletto. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare, mi sveglio la mattina a 7 e mezza, mia mamma piange, non perché ha litigato con mio papà che non era a casa quella mattina, ha fatto il ferroviere mio papà, quella mattina portava la corsetta, Treviso Conegliano, lavoratori e studenti, come arriva al ponte della Priula, a Susegana, sul Piave, trovo un segnale di rallentamento, il treno deve marciare più piano, a Passo Duomo, perché? Perché l'acqua del Piave, nera, lambisce le arcate del ponte, quella mattina porta giù di tutto, carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate e le sponde del ponte della strada, lì affiancato alla ferrovia, sono nere di gente, spalla a spalla, civili e militari girati verso l'acqua, ognuno una pertica in mano. Venute fuori da dove? Dagli orti? Con quelle pertiche, fanno un pettine per fermare i morti che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente, altra gente con i rampini li allinea sugli argini, da ogni paese del Veneto lungo il fiume, quel giorno la gente molla la vendemmia, corri a vendemmiare sul Piave, per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese dopo Caporetto, e non era solo il suo, era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno.